Ciascuno di noi ha una data di nascita, Alessandra ha 22 anni, studentessa ne ha due. Il 2 gennaio, giorno in cui ha visto per la prima volta la luce, e il 10 marzo, quando per miracolo è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze. Sono risultata positiva all'inizio asintomatica, poi dopo 3-4 giorni mi è salita la febbre, è iniziato il peggioramento, è iniziato la dispnea, quindi difficoltà respiratorie, e il 2 di marzo sono costretta a chiamare l'ufficio di igiene per mandarmi un medico, il quale ha deciso di mandarmi all'ospedale di Grosseto, con un'ambulanza ovviamente, e di lì è iniziato il tutto, sono stata portata subito in terapia intensiva di Grosseto, dal 3 di marzo sono stata intubata e il 4 portata al Careggi di Firenze con Pegaso 2, quindi Pegaso di Grosseto, e lì è iniziata la battaglia con la mia malattia, che è il Covid. Per fortuna sono qui, posso raccontarlo, e sono in sede della Proce Rossa, quindi sono felicissima. Generosissima, potrebbe aver contratto il Covid durante il suo lavoro alla CRI, luogo nel quale, malgrado tutto, oggi ha ripreso servizio. Secondo me a volte non sono i soldi che ci fanno ripagare quello che facciamo, perché a volte anche un sorriso di un paziente più anziano migliora la giornata.